Allora, la prima borsa di studio è per Lisa Giusto. Sebastiano Gasparini, nove e dieci. Ayat Imowriquen, nove e dieci. Batita Martignoni, dieci fighetti con l'ode. Michael Orlandi, nove su dieci. Giulia Faderi, nove su dieci. Maria Grazia Torre, nove su dieci. Matteo Zanzottera, nove su dieci. Matteo Zanzottera, nove su dieci. Nicola Zannini, nove su dieci. Asia Speroni, nove su dieci. Le nostre borse di studio sono finite. Professori sicuri che non volete dire niente? Siete più emozionati voi di loro? Comunque complimenti anche a voi, eh? Perché siamo ottenuti questo risultato e anche a tutti. Ok? Grazie ancora. Complimenti a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.